Ooooooooooo Aaaaaaaah aaaaaaaah aaaaaaah aaaah Benoli da scuolezza Capoe Mira PFFFFFFFFFFFFF Lo to fai la sulla sulla suoi Facciamo per superare questa maledetta Cazzo! He clove me! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, sì, sì. Era bello carico, B, era bello carico. E me lo vediamo che dorme, come la volta scorsa. Sono carico, sono carico. E poi era scarico. Non l'ho sentito. L'ho visto bello carico, poi lo becchiavo. No, ragazzi, sono scarico, sono scarico. Allora, tranquillo, sto giro la garanzia. Infatti, sono scarico come le munizioni dell'M42. Tra l'altro bolliranno in pentola cose molto interessanti con B, ma, se dire a lui a tempo debito, sarà un po' di tempo. Sì, ha noleggiato lo Sturmtiger del Museo di Münster. No, no, ho sbagliato l'ambito completamente. Ah, mi dispiace, ti frega. A parte, ragazzi, il Riperto sempre l'ha detto anche in Crivo. No, ancora meglio, ancora meglio. Ha comprato un... Ha rubato dall'America il Smo 2095. Eh, sogno, sogno proibito. Uh, a te sta a zucca. Ancora meglio, sta facendo un finanziamento con suo padre per... Per cui i comandi invertiti. Oddio, i comandi invertiti. È il gioco team. Perché ci sono così pidocchiosi? Perché abbiamo... Che cacchio di roba è questa cosa qua? Non lo so. No, il mio aggiornamento mi ha invertito i comandi. Ah no, che cacchio. Che cacchio. Vabbè, vincendo a voi che io intanto mi sistemo i comandi. No. Ma dai, ma perché mi hai messo WASD, disgraziato? Io non ho mai avuto WASD. Cosa, mi scusi? Eh, uso... Z, 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 Z. Che cacchio. Che cacchio è? Che re? Eh, praticamente WASD, ma sotto. Perché? Perché ho il W che non mi va. Ah nooo, un disastro. Oh ma ce la posso fare Cristo, non Cristo. Piano, 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 piano. Ora salta davanti a quelli di voi si abbassa. Non saltare a caso, perché sennò li pigli. Se non salto a caso, è il caso che salta me. Vai tutta a sinistra, tutta a sinistra. Ah, tua madre. Hai sbagliato, hai detto tutta a sinistra, compreso anche dove c'è il coso verde. Ho capito ma se c'è il ventolone qua che non fa il dettaglio. Ok, ok, non preoccupatevi se ci sono. No, vedi il coso verde a fianco a te, lo devi superare dall'altra parte a sinistra. Sì, guarda, guarda, guarda. Ma l'altra delta lo so, me la ricordo, solo che il ventolone. Ma quanto bello è raggiungere la qualificazione, essendo ancora, stando ancora in linea di partenza. Tu immagini tutta la gente che mi guardava e dice guarda quel coccodrillo che morirà adesso non ha fatto nulla. Ma tanto ti ha glicciato il fagiolo. E' meglio, meglio così. Come il fagiolo che faceva parte dei green screen. Ma meglio così, 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 la gente pensa che sia un vero coccodrillo la cosa che non ha fatto. Assicurante. Comunque, detto questo... Hai visto che c'è un fratello coccodrillo ciclope a fianco? Come un fratello coccodrillo ciclope? Che non vedi a fianco di me la c'è un fratello coccodrillo guarda Rex dietro di te. Ma tu sei ancora in partite tutto ciò? Siamo in squadra, delta. No, e questa è riuscita a fare le opzioni senza problemi. Ok, ok. Chi? Perché guarda che se stavi fermo... Sì, sì, mentre non li fermo ho risistematità. Ah, ok, allora. No, io penso che è riuscito. Ho detto che cacchio stai combinando. No, 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 no. Vieni, i bianchi, i denti di legno e l'amore per la libertà? E i denti di legno? È un'ascia. Chi è che è caduto? Non lo so. Qualcuno che lo meritava. Ahia, già qua iniziano a... No, disgraziati. Maledetto, me li detti pidocchiosi civili. Pidocchiosi villani eretici. Che non saranno mai così pidocchiosi come... Intanto la nostra amica Zucca, il nostro amica Zucca, già la prima volta, è arrivato prima... Prima, nella prima rada. È la metà del di Facebook. What the fuck? Che scopo... No è il mio amico, quell'essere è schifoso. Tremonhead in squadra con noi ora? No. Quello che sta in squadra... Perché non? Perché non? Aspetta, aspetta, non ci saltare. Aspetta che saltare. Perché ti sei tuffato? No, non volevo. Perché ti sei... Ma io non volevo, ma io non volevo. Seguite a Gojira. Bolshevismo. Seguite a Gojira. Seguite a Gojira. A Gojira. Tutta a Gojira. E, avanti. No, mi ha tenuto mer... Meno male. Porco. Meno male che mi ha... Mi ha fatto 14 punti. Beh, non sei stato tu un ottimo. Sì, miglior 20%. Bravo Rex. L'impegno è importante. Sì, però noi abbiamo una Zucca per alleato. Una testa di Zucca. Ma è fortissima quella Zucca. Sì, ma questi sembrano quelli la più deboli. In realtà sono i più forti. Ma chi ha detto che sono deboli? Non è Pumping Moon. Pump. È in Pumping Moon. Come cacchi si chiamano Pumping Moon. Non riesco a pronunciare. È ma è difficilissimo. Vabbè, Jack Skeleton. Ok, abbiamo capito. È Jack Hunter. Jack Hunter, ragazzi. È Jack Hunter. Abbiamo lo spirito di Halloween con noi. Abbiamo lo spirito di Halloween con noi. Praticamente. È come cacchio di Massachusetts. Massachusetts. Ciccioli. Ciccioli. Ah no, ciccioli in altra cosa. Pumore. Pumore. 11 ciccioli robati, cretino. No, no. Ciccioli lo diceva Velma da bambina con il baby scubidoo. Ah, pensavo. Mamma mia. Come fate a non ricordare. Qui si chiama? Quello della carica dei 101. Il cane. Io non conosco le razze di cani, ma sai il cane colonnello. Il cane colonnello. Dio diceva ciccioli. La fa io. Ciccio. No, ciccio no. Ciccioli. Oh, sono stato preso. Eh, Dio, voluto bene. Ciccio. Ciccio. No, ciccio. No, ciccio. Ciccio. 15 ciccioli robati. Un po' crotino. No. E tra l'altro ti ricordi che era colonnello oppure quel cane? No, ma qualcosa. Bello. Però quando in certi film, tipo anche galline in fuga, ci siano gli animali che hanno dei gradi. C'era un coccodrillo che acchiappa, che afferra. State attendo. E' caduto male. No, sono caduto anch'io. Però ero primo. Ecco qua. No, vabbè, siamo tutti primi perché stiamo facendo punti. Siamo tutti caduti. Delta, Delta, hai fallito. Senta che stiamo andando benissimo, non rompere. Non stiamo andando, lui sta andando benissimo e noi siamo come gli italiani con la Germania durante la guerra. Senti, io sto vincendo la guerra. Beh, in realtà sono in due. Vabbè, tecnicamente... Ma se è uno stato marionetta dei tedeschi, io sto vincendo. Però l'abbiamo giocata bene. Quello più che c'era l'Italia, quella è la Repubblica Sociale. Eh, ma l'abbiamo perso Roma, ma io sto comunque vincendo la guerra. Esatto. Finché mi mantengo, finché tengo la Valle del Po e le mille ciminiere... E il lago di Garda. E soprattutto l'ansalado. L'ansalado, come per me la rinsalata. Ah, tra l'altro, Grievous dopo ricordami che ti devo far vedere una cosa bellissima, straordinaria. Straordinaria. Minchia, che chi è? Puoi immaginare di cosa sto parlando? Hai incontrato Bill. Hai incontrato Bill. E che Bill. E che Bill. Ah, no, no. E che Bill. E che Bill. Ah, hai diventato Bill. Ma puoi immaginare sulla base di quello che ti avevo scritto nella chat di cosa parli. Che lo dobbiamo fare, signore? Eh, sopravvivere. Ah, ok. Allora io sto qua. Eh, tu basta che ti metti in un punto dove non arriva l'acqua. Eh, bene. Perché l'acqua inizierà a salire. Lei, lei, mi scusi, cosa dice? Qua arriverà l'acqua, signor Crocodile. Sì, tutte e due certe... Allora, io che ho un po' di esperienza con l'acqua alta, diciamo che... Ecco, bravo. Bisogna mettere le paratie, bisogna mettere le paratie per evitare... Esatto. E' tutto il resto. Ma quello che avevo io in carare. Invece sono la puzza. No, sono caduto. Una si è suicidata. Se andiamo tipo là, sentiamo tutti i libri ai posti alti. Se andiamo tipo là? No, 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 sì. No, siamo qua. Potrebbe arrivare l'acqua alta da un momento all'altro. Bella. Non sai mai dove potrebbe arrivare. Non è che sei... Devi guardare il coso, l'altitudine delle calli. Eh, ok. Io vi dico soltanto che siete il punto più basso. Guarda che arriva una bomba. Buma. Sì, però... È un bomba, io non ho un bomba. Sì, però è il punto più alto. Madonna, che volo che ha fatto quel... Cosa delta, cosa delta, cosa? Che è il punto... Voi vi trovate uno dei punti più bassi. Il punto più alto è dove c'era scritto Fall Guys. Dove ci sta il nostro comodo. Allora andiamo là. No, no. Andiamo là, allora, dai. E adesso io ho Buma. L'unica cosa è che devi stare... O lo aiuti o basta che stai lontano dal martello, vedi? Stiamo mantenendo la posizione. Voi basta che cercare di sopravvivere. E... Attento al martello che scatta. Sì. Ecco, ok. Questo qua continua... No, vabbè. Delta, lo hai ucciso. No, vabbè. Perché il mondo vuole farlo. Ma lui è andato sulla via sbagliata. Ma perché sei andata la via più sbagliata? Ma delta, ma sei tu che induce in tentazione? No, infatti, maledetto. Non è vero. Potevi scegliere. Io me ne sono altamente fregato. No, io me ne frego. Come dici. Mi sei fatto bene. Come dissero i futuristi. Mi spiego. Me ne frego. Come dice Marinetti. Io me ne frego. Perché c'è Garibaldi che dice obbedisco. Invece c'è qualcun altro che dice me ne frego. C'è uno che ti sta lanciando le palle addosso. Un gatto. Sì, ma ha una mira. Ha una mira pessima. Hai una mira pessima. Quindi addosso che mi faccio? Beh, dici. Oh no, a quanta mezza. Ah, ecco perché ti alzi. Ebbene, io qui sono più alto di te. È finita una mira. No, è finita la parte. Vedi dove stava lui. Vedi. Ma bella, ma comunque siamo in columi grazie a me. Non è vero mai. Io, io. Io, 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 sempre io. Sono nei miei bianni. Uh, il finale. Siamo in due squadre. Comunque, Grimlo sto weekend ero con Fabio. Anche Fabio. No, magnifico. Oddio, ma la faccia di Grimus è buggato. Perché c'è la verde coso, è buggato. Eh, vedi. E' la parte del green screen. Sì, è il green screen. Ah, ragazzi, vi ricordate questo? Ok. No, no. Tu scappa. Allora, tu devi acchiappare gli altri. Cioè, noi dobbiamo... Ma io, Rex, chi è il tu? Eh, sei tu, Rex, Grimus. Tu hai la puzza, devi acchiappare i gialli. E la puzza. Io seguo te, io seguo te. Dobbiamo aiutare a Grimus che... Vedi come c'è lui? Fermalo. Catturalo. E Grimus deve starci... Grimus ci deve... Vabbè, ci sta arrivando la puzza. Scappa, scappa, scappa. No, mi hanno impuzzato. Eh, funziona così. No, io devo solo scappare. Grimus deve... Che devo fare adesso? Acchiappa i gialli, devi acchiappare i gialli. È come un virus, tu devi pigliarli. Pigliali. Tutti i modi possibili. Io scappo. La puzza, la puzza. Cosa sta spussa? Ti spacco la faccia. Spacco la faccia. Virus del cavolo, virus del cavolo. Ciao. Acchiappalo, acchiappalo. E questo lo provà, porco il clero. No, no, beh, merda. Ok. Manca l'ultimo, dov'è? Eccolo là. Va, lo stavano so. Vado all'altra, Delta. Io lo chiudiamo, lo chiudiamolo. Vai, 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 vai. Vai? No. Sì, vabbè, ma che cazzo. Porca troia. No, dobbiamo acchiappare, sennò siamo fottuti. Eh, ma datemi una mano, capri. Sono tre ore che sono lo stesso in sequenza. No, è qui, è qui Grimus. No, sono due, sono due. Dovete contare che sono in due. Cazzo, ho quasi preso. Delta, dai, sta bene. Siamo in due a cercare a questo, lo dobbiamo... No, lo sto cercando, io ce l'ho. No, no, ci sta un altro, vedi che è uno... Preso, è preso, questo l'ho preso, l'ho preso. È andato, uno è andato. Acchiappolo, no, sei fuori, cazzo, per poco. No, io l'ho preso. Parliato che il nostro ultimo giocatore è stato bravissimo perché ha resistito per 20 anni, mentre cercavamo di acchiapparne due. E' vero. Ah, ma vedi che è un ricco sfondato, questo Don Callix. Don Callix. Maledizione del clero, no? È peccato, poteva andare molto bene, mannaccia. Vabbè, è andato bene lo stesso, non hai vinto delle colonne lo stesso. Ho una sega. No, hai vinto, hai vinto... No, non hai vinto niente. È vero, capire. Ma sei sicuro che non hai vinto niente? Sto guardando, aspetta. Allora, se voi fate le... Dovete fare le missioni giornaliere. Io ho già sbloccato. Allora ho vinto una ciolla, anche la ciolla. Hai capito quello che intendevo prima di lui? No. Quindi non hai capito, va bene. Allora sarà ancora più compresa. Ah, ok. Ah, quindi avremo... Ho scritto che ho detto che comprerò cose strabilianti. Ah, eh, sì, ma ci sono tante cose. Ah, ti è arrivata la cosa Lego? Ho una cosa che vale per tanto. Quella cosa Lego, dici? Esatto. Ok, ok. Ah! Ah! E allora, perché sai, tu dici, ho comprato una cosa, ma caro Rex, noi viviamo nell'era del consumismo, ci sono mille miliardi di cose che possono essere comprate. L'era del consumismo. Ma la cosa con la C maiuscola è una, è una soltanto. Io penso tipo a mille cose che mi vengono in mente, tipo se io avessi tanti soldi potessi comprare qualsiasi cosa. Vabbè, però ti ha specificato con la C, quindi può essere un colone pilota, un colone soldato, un colone capitano, un colone tenente, un colone... Non pervenire anche quest'idea. Oppure, oppure, visto che hai detto, actually meet the bill, oppure con la C potrebbe essere... Con la C potrebbe essere un... Sempre Lego, ricorda. Cos'è che meet the bill? Il Cv33. Eh, eh, l'hai detto tu. Bello, frigo. Lo dobbiamo vedere. E dopo devo vederlo. Però ti manca il carista. Ti manca il carista. No, eh, eh, ti piacerebbe, ce l'ho. Ah, è il completo. Il bill. Chi è in squadra con noi? Chi è quello là? È un arancione, un tizzo arancione. Morirò. Cioè, andiamo a vedere gli arancioni stasera. Tutti arancioni. Eh, vabbè, ma perché modo stanno facendo tutto l'evento di Halloween. Quindi il colore arancione è l'ordine del dorso. Sì, adesso sì. Main color. Wiii. Madonna, come che brutto poche. Ma sì, ma guarda che folla. Il problema è questa maledetta folla. Eh, sono pure ridotte. È da 60 a 40. No, ma mia, sembra di stare... No, veramente, pensa prima. Sembra di stare nelle calli che portano a Sambortolomia. Vabbè, tu guardi il positivo. Vabbè, tu guardi il positivo. Che la prima gara è leggermente così. Poi dopo si calmano tutti. La coda per il palazzo ducale, secondo me. Madonna, zero. Paglissamento. Comunque. Scusa, se vuoi sapere te che non sei ne ancora venuto a Veneti e mai potrai venirci perché non ti darò il permesso. Il permesso è bellissimo. Però è vero, ragazzi. Se uno si domanda perché non sei andato ancora a Veneti perché una certa cosa dice non vieni fiamma. Perché Grievous non mi ha dato il permesso. Questa è la risposta. Sì, non mi ha dato il permesso perché Grievous non mi ha dato il permesso. Ma è vero, eh. È l'uomo doge. Uh, hai fatto più punti di me. Complimento. E' mario. Eh sì, perché... 28! Ho fatto 28 punti. Ho fatto 28 punti. Vittorio Emanuele, cosa è che stiamo dicendo? Certo, Delta 28 ha fatto 28 punti. Delta Vittorio. Delta Vittorio. Abbiamo un problema con l'arancione, ragazzi. Credo abbiamo... Non abbiamo uno bravo. È un fagiolo marzo. Abbiamo scambiato... Abbiamo scambiato una zucca per questo. Per questo. Per questo. L'altro, guarda che c'è uno in squadra che si chiama Legionario. Quindi secondo me è ignoto sotto mentite spoglie. Legionario, io no. No, voglio dire... Che si chiama Legionario. Poi io ovviamente faccio tutti i legionari un fascio, eh? No! Eh? Il politico è corretto a quel paese. Ma sì, ma chi se ne frega, dai. Vabbè, però la battuta ci stava. Era simpatica. In ambito storico era simpatica. Così impara esistere il 2023. Eh, appunto. No. No. Noi siamo dagli anni 90, non c'erano. Noi siamo nati con una cattiveria e tale è rimarrate. E voi pensate di colpo di farci bene tutto questo? Questa bontà ci fa solo schifo. Mega schifo. Questa politica corretta. Noi siamo cresciuti con Ziu Paperone che... Anche quei nipoti che insultava tutti. E poi un person... Sì, sì. Non è che li insultava, però... C'è una scena, c'è una scena. C'è una scena, c'è una scena. Diceva, qualche gioco per gli handicappati. Sì, 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 è cattivissima. Ma ci sta una del simpio... Ma c'è una scena bellissima nel deserto del Sahara in Egitto con i nipoti. Bellissimo lui. Ah, prendete questa moneta, questi soldi per voi da bere. Ah, ma questo basta per... E uno per tutte e tre? No, per tutte e quattro. Bevo anche io. Io mi ricordo nei fumetti era ancora peggio. Nei fumetti che tra l'altro... Io mi ricordo quando leggevi i classici e non capivo mai in che anni fossero stati scritti. Perché è il topolino che ovviamente è quotidiano. Però... Cioè settimanale, diciamo, ecco. Però i classici... Boh, sono stati gli anni sessanta, gli anni settanta, chi lo sa. E mi ricordo c'era uno in cui mangiava di notte. E gli dicevano, scusa, mangiamo senza luce. E lui gli fa la bocca alla tavolo stessa. Sì. No, era troppo cattivo, è cattivissimo. Ma un personaggio che si chiama Scrooge. Che anche lì era come la roba delle cannucci. Diceva, ma mangiamo una ringa in due. E lui, no, in tre ho fame anch'io. Sì, vero. No, no, è vero, è vero. No, ma è... Ma poi era anche simpatico. Mi ricordo con Battista che cucinava le patate. E lui per andare d'economia comprava patate a livello industriale. Quindi comprava tipo, se no, sei sacchi di patate. E mangiava solo quelle per tipo, non so, due mesi, tre mesi, quel che era. E quindi il suo maggiordomo era abituato a preparargli un'unica ingrediente in 20 modi diversi. Sì, no, ma lui è a risparmio forever. Cioè, come ti permetti, capito, lui così, come ti permetti spendere soldi per queste cose? Cioè, era proprio fatto così. No, ma era bello perché gli diceva tipo, ti farò patate, ma poi ti farò i germogli delle patate. Poi ti farò la buccia, che in realtà la buccia la puoi mangiare è buona se la cucini in tot modo. Quindi era anche simpatico perché ogni tanto ti buttavano fuori un po' di terminologie. Perché poi la fin fine era un storia scritta in Italia. I personaggi erano italiani. Ti beccavi delle robe che non avrebbero, cioè non hanno senso e tu da bambino cercavi di capire che senso avevano quelle cose lì. E il senso è che le avevano scritte appunto in Italia, era l'unica spiegazione. Ma l'unica cosa era pure dire che essendo che erano... Per esempio, a certe volte mi ricordo che per ridere mettevano le bottigliette di olio di ricino ogni tanto. E tu dici, finiscono queste bottiglie di olio di ricino. Sì. Qualcuno è caduto male. No, che culo minchia. Io sono caduto male. Salto tuffo, bella. Risalto, risalto, risalto. Questa era più difficile, eh. Verso la fine è tosta. Ecco qua. Io già mi vedevo a morire, io già mi vedevo a morire. Dimmi che siamo passati. Sì, sì, siamo passati grazie a me. A me. Anche se non aveva l'alancione o l'alancione. Ma anche nei cosi, mi ricordo anche nei Simpsons ogni tanto nei doppiaggi si prendono qualche libertà di mettere qualche termine italiano. Tipo quando... Sì, ma anche ti ricordi quando nono Simpsons che ascoltava, sintonizzava la radio e veniva fuori il discorso di creazione di guerra di Mussolini? No, questo non me lo ricordo. No, davvero. No, io mi ricordo quella di... Allora, mi pare che in inglese fosse tipo un discorso di Roosevelt o qualcosa. Invece c'era tipo Dono Simpsons che metteva forza, e veniva fuori l'ora delle decisioni, i vocabili. Ma te sto scherzando, era troppo bella, cazzo. Dopo dopo vado a recuperarla perché... No, io mi ricordo quella di Homer con la maglietta, con la camicia rosa, o la maglietta rosa. E quello che mi facciamo a morire da ridere è che... Si fa piano, si fa piano questa volta, non si fa veloce. E quello che mi facciamo a morire da ridere è che gli dicevano... Mettiti in riga Garibaldino. No, bellissimo. Ah, ok. Quelle guardie, quando lo vediamo. Signori, hanno aggiornato, non è più veloce. E io quei botte, mi son beccato. Cioè, l'hanno aggiornato e pigli pure le botte. Cioè, praticamente non corri più veloce come un po' di... Dai, Delta, tu sei quello bravo. Dai che siamo primi, Delta. Siamo primi, grazie. Delta, non permetterti di perdere. Guarda che se perditi... ...è il muo a sberra. Affanculo quella merda, dai. Mi è venuto addosso a uno, sono caduto perfetto. Sì, aspetta. E il coglione è pure sopravvissuto. Eh, aspetta. Siamo secondi, perfetto. Delta, non azzardarti a perdere. Che stai facendo schifo, continua a fare schifo. Quanto sei strozzo. Tipo positivamente, diciamo. Dai, 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 continua a fare schifo perché c'è una schifo. Non farti superare da R2 di Ola. R2 della 180... Quello è R della 187. Non so, la 187 che R deve avere, ma secondo me deve avere, non so, R9. No, mi sono distratto! Dai, Delta ti si fatti battere da R9. Non lo so. Perché R9? Non lo so, R qualcosa. Comunque siamo secondi. Sì, grazie a me siamo secondi, quindi non ho bene. Sì, però mi sono distratto. Dai, cazzo di R9, vedi quel, vedi maledetta 187, ma che gli va sempre bene per qualche motivo. Ci beccano pure i set Lego, sti disegno. Sì, è vero. Però stanno iniziando ad essere più veloci. Allora, le armi, vedi, le trappole iniziare ad essere più veloci. E quindi, però hanno tolto la velocità. Prima andavi velocissimo qui. Ma mori mai. Guarda come se la tira questo R schifo. Ma vai a crepare, ma buttati nel miasma. No, no, ma infatti lo fanno qui in questo livello. E scade a un totto tempo. Non so che c'è lui. Ma sai che è molto più facile le cose effettivamente rispetto a prima. Prima dovevi correre come un pazzo. Ma tra l'altro come è possibile che noi stiamo vincendo anche senza aver il tizio giallo, l'arancione. No, no, c'è, c'è. Soltanto che ha perso subito. Ah, wow. Ma non è fortissimo lui, eh. Eh, no, l'avevo notato. Sì, però questo mi sta facendo... Guarda, io lo segnalerei perché sta rompendo il cazzo. Esatto, come si permette a rimanere in vita? Deve morire. No, perché teoricamente, fratello, è finita. Cioè, ormai hai fatto. Sei 229. Ma è il gioco, poi è colpa del gioco. È il gioco che... No, teoricamente si dovrebbe finire quando si rimane anche... Eh, ecco, eh. Che cazzo? Ecco, non ci credo. Vedi, è il gioco che da sfoggio. Allora, il gioco... No, no, sta contando, sta a 4 secondi. Il gioco deve aumentare, ora verrà segnalato e diranno, guarda, mettete più, eh, mettete meno tempo possibile a questa gara perché veramente, vedere gente che fa così è da stupidi. L'importante è che il coccodrillo... Il coccodrillo, il sacco del coccodrillo sia ancora... No, è contro di noi, dovete pitto più o picchiare. Ma è naturale, come ho pensato, perché... È una palese che fosse prima. Uh, round of applause. Ah, è quelli che caschi di sotto e non devi cascare di sotto. Bravo. Quello che c'è nella sigla, ecco qua. Sì. Che è nella sigla? Che cazzo. Bellissimo. Che è che casca di sotto dritto per dritto. Eh, sì che tra l'altro hai visto e si era fatto tutti i piani in una botta sola perché avevo trovato il buco esattamente. Poverino, che sfiga. Allora, il trucco ragazzi è che quando siete in portà soli iniziate a saltellare e non a tuffarvi come pazzi. Come faccio? Eh, ok, è andato. Il clero, lago. Attenzione. Scusa, scusa, scusa. Maledetta. È stato un attimo momento di distrazione. Cacchio di arancino! Arancino! Maledetto arancino. Guarda che l'arancino mi fa perdere. Ah, però sta sopra di me, a fianco a me. Uno, due. Tre. È perché credevo di voler avere light ground. Ok, il giallo ti ha... No, Delta, non spiace! No, no! Ah! No, sopito molto giù. No, non va bene. Alla già il clero, ladro. Allora, il mio modo di fare è eliminare tutte le mattone le più possibili da sotto. Sì, è un modo per farli cadere tutti nel blu. Dipinto giù. Perché non fai cadere noi? Eh, tu vuoi sperare... Io faccio tutto esterno, quindi cercate di non cadere all'esterno, ma all'interno. Ma io devo fare all'esterno? Io sto girando all'esterno, dannato. No, Grimus, no! No, no, Grimus, no! Fucciamo! Boh, mo vado in stesso orario. Mi sono con le barbe durante i orari. No, grigio! Arancione! Arancione de' merda! Arancione, c'è un problema con te. Questo arancione è meschino, è cattivo! No! Fratello, io te voglio bene. Però vedi che tu si scemo, però. Eh, eh. Delta, tu che sei delta... No, no, sono scivolato! No, dai, di nuovo il viola. No, ho sbagliato, ho sbagliato. No, no, è pezzo. Regà, di nuovo il viola. Come il viola? Il massimo è naturale. Sì, è fortino. La stituzza è infinita. Dai, ci sono di battere dalla 187. Fiamme immortale! Sì, famma mia. Che tristezza perde comunque. Almeno ho fatto un bordallo di putin. Mi chiedo di continuare. 12 minuti. Oh, buonasera. Buonasera. Oh, ecco l'ora. Stiamo giocando a... Eccellente, eccellente. Ah, aspetta, aspetta allora. Che cosa vuoi dire? Mi butto su FallGuides. Uh, siamo in quattro. Allora non... È vero che c'è anche lui. Non devo fare un altro. Guarda, però se non devi fare l'aggiornamento, perché se devi fare l'aggiornamento... 5 giga. Non devo perdere, andiamo. Oddio! Sì, devi fare l'aggiornamento. Aspetta, aspetta. Perché voi rispetto a me ce l'avete su Epic, io ce l'ho su Steam. Quindi ogni volta che posti ma automaticamente... Sì, l'aggiornamento è un mio problema. Non è un problema mio? Non è un mio problema. No, no, avete presente come faccia Pindus, no? Non è un problema mio? Non mi interessa. Non è un problema mio. Non è un problema mio. Non infangare il nome, il sacro nome del Capitano, Findus. Pindus, non Findus. Pindus. Pindus, Pindus, Pindus. Eh, vabbè... È un comico, dai. È un comico, è un comico. Ah, eh no, io non seguo i comici. Anzi, è uno dei migliori. A mio punto di vista era... È un comico. È un comico. Comicon, sì. Comicon. È un comico. Vabbè, se hai una connessione rapida la dovresti mettere subito a farlo. No, non ho una connessione rapida. Però vediamo. Perché qui non mi dice che ho da aggiornare, quindi è capace che sia già ok. Vedi, controlla. Vediamo, vediamo. Poi si è fatto un aggiornamento in automatico, può essere fatto un aggiornamento in automatico. Boh, ma perché ultimamente comunque l'ho già aperto. Ah, allora hai fatto un aggiornamento automatico, intanto all'inizio di ottobre c'è stata pace. Effettiamo. Quindi l'uso del fatto che i tuoi ospiti polacchi non siano degli ussari alati. Mi dispiace, sono quattro donne, credo che sono pure due coppie lespiche, quindi... Eh, ma mannaggia, perché io speravo veramente di liberare Vienna dall'assedio, invece... Eh, no, mi dispiace, non posso... Niente crociata contro i turchi. È crociata contro i turchi. Intanto mi sono tagliati i capelli, sono bellissimi. Ataturchi. 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 Eh, c'è sta, c'è sta. Che ballano il tip-tap. C'è sta. No, no. Sì, ma tu preferisci i turchi con il coso, va, quel turbante, proprio da superturco, oppure con quella specie di... Il turkbante. Esatto, col turkbante, oppure con quella specie di cosa strana col pirulino e il mantellino dietro. No, il fez, il fez, il fez, è il top, è il top. No, 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 il fez è il terzo, perché nel 600 ne aveva un altro ancora, che era una specie di coso che andava sopra, ma poi faceva anche un mantello dietro la nuca. No, allora, quello non c'ho... Ah, sì, no, ho capito. Ah, sì, sì, sì. È un po' molto coloniale, quello. Eh, sì, 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 quella cosa di strana. Quello è quello famoso per le impalate. Quello là è classico... Se tu vuoi farti impalare, metti quel coso lì, e ti vai in Transilvania e ti impalano subito. Perché fa tanto lui con la V. Sì. E poi tra l'altro è bellissimo quando parlavo là col signore lì di Budapest che mi diceva sempre... Ah, ma il mondo pensa che Dracula sia una leggenda, ma in realtà viveva qui a casa nostra. Tutti hanno paura da Transilvania, ma in realtà Transilvania per me è tipo il giardino di casa mia, cioè che problemi ci sono. La gente ha paura dei vampiri, ma io sono un vampiro. Esatto, quindi non ho paura dei vampiri. Quindi non ho paura dei vampiri, anzi ho paura della gente. Però per il cultificio ti nemmeno non lo dà. Vabbè, ma noi abbiamo i politici che sono dei vampiri, dei succhia soldi, d'anima, oltretutto. Manca il sangue, proprio tutto, tu, niente o sangue. Eh, di fatto, la vorrei una sfida, la vorrei proprio una sfida, vampiro-politico contro effettivo-vampiro, vedere chi vince dei due. Diciamo semplicemente... Io ho un'idea. Dica. War Thunder? No, 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 non quello. Dicevo tra politico-vampiro e vampiro-vampiro. Ho un'idea su chi la spunterebbe. Come procede l'aggiornamento? Ma... Ma si sta avviando, poi non lo so, schermate nere... No, 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 la schermata nera rimane per qualche minuto, non troppo, è normale, pure a me. Parli di Epic o di Fall Guys? Fall Guys. Ah, Fall Guys. No, no, perde un po' di tempo. Sai che hanno fatto... Hai già fatto l'aggiornamento? Sì, sì, perché sennò non l'abbiamo. Sì, sì. Non l'abbiamo, se no. Eh no, infatti. Ah, vedi il potere. Perché tu ce l'hai su... Ma voi siete ancora lì? Sì, siamo aspettando a te. Grazie, sì, mi siete bravissimi. Siete bravissimi. In onore di... In onore di me cambierò. In onore di me cambierò. La gara, però no. La gara! Allora, che chi va? Allora. Allora, qui, ricordi che noi abbiamo uno scozzese, un crocco di... E' una tizia inglese con un salvagente. Quindi tutto apposto. Fantastico. Ma non quella di Bruce che ha visto il fighter. Sì, però è inglese. Perché tiene il cappellino e il berretto della sua organizzazione militare. Che infatti tiene il berretto, se ci fai caso, è inglese. Non mi ricordo più come funzionano gli invidi, però, ragazzi. No, invita ignoto. Ignoto. Sì, invita ignoto. Ignoto. Sì, ignoto non c'è. In basso c'è la V, no? Di sotto. Vabbè, io ho la tastiera. Con la faccina, tu clicca, c'è il coso di accetta l'invito. Sì, mo scoperta hanno fatto sta aggiunta. Ah, ok. Sì, sì, finalmente. Finalmente. Ce ne voleva, eh? Ci voleva un aggiornamento per fare sta cosa. Ebbè. Adesso che non c'è nessuno. Il cocodillo con lo stile Bauhaus. No, no, tu devi cliccare sul nome, per esempio, Jimbo e vedi se ci sta, accetta l'invito. Eh, no, posso fare richiedi di partecipare. Allora, allora l'ha inviato. No, no, ma lo invito, lo invito. Ecco, vedi. Ah, guarda, premi Shift più F3 per aprire il riquadro sociale. Perfetto. Shift più F3, ok? Bellissimo. Allora, permette i tasti 1, 2 e 3 potete fare le animazioni. Guarda che bello, guarda che bello, altro che War Thunder, AB ha inviato una richiesta di partecipazione al tuo gruppo. Accetta di partecipare. Hai visto? Ignora la richiesta di partecipare, richiedi di partecipare e c'è scritto anche può presentarsi come AB o AB su Steam e su Epic. C'è il mio di carta di crazy. War Thunder, levati proprio. Sì, accetta, accetta. C'è War Thunder che dice, questo tizio qua è, si è unito agli amici. Oddio, ma un corvo negro, è un corvo negro, un corvo. È una gazzalabra. È una gazzalabra. E noi che ci facciamo scrupoli per dentro. Sì, sì, ormai mi sono stancato. Politically correct. Correct. Politically correct. Perché il corvo che cos'è? È bianco? No. No. Ma vorrei anche io quella maschera nera, così mi tollo questa cosa bianca che ho sotto la bocca. Ma tu hai bianco neutrale rispetto a bianco che tiene Rex. Infatti tu, secondo me, è glicciato e la tua faccia è lenta verde come il green screen dietro di te. Ma io voglio del colore della pelle. Io non voglio proprio a verde. Io vorrei il costume che mi toglie la faccia. Eh, infatti. Eh, mi dispiace. Però purtroppo, se no, non ha più senso il costume in sé. Sì, perché... Ma io non voglio che sia un costume, io voglio essere quella cosa lì. Eh, ma quello devi... Tu, Grievous, tu ti devi scaricare e comprare Party Animals. Là sì che c'è l'animal. Eh, lo so. Ah, sì, sì. Vediamo prenderlo tutti. No, io già ce l'ho. È solo che... Però mi trova... Ti do un consiglio, Bibi, che lui lo sta giocando. Oddio, mi hanno superato tutti. Praticamente... Praticamente usa la tastiera. Perché ho visto che con il joystick è un inferno. Io l'ho provato, è un inferno con il joystick. Ok, devo provare la tastiera. Ma sai perché? Perché ho visto che... No, perché è disconnesso dal server. No, diciamo non è. Che c... cosa? Che è successo? No, ma è disconnesso dal server che ci servono quei gustosi punti. Ma porca miseria. Vabbè, Delta... Delta tanto... Non preoccuparti, Delta, perché tanto ci sei tu in squadra con i tuoi parenti, è vero. Ah, no. Vabbè, vincerai tutto. No, no, ma... Ma difatti è bello... Perché quelle poche volte che io e Rex abbiamo rischiato l'avventura qua fuori da sole e si prenderà malissimo. Molto male. Mi sono salvato. Eh, no, sai che cosa... No, a me mi hanno investito tutti prima, quindi... Se ci arriva è un miracolo. No, no, c'è un problema di connessione. Non mi ha... Non mi ha fatto lasciare la presa. No, ma... Ah, ecco, vedi. Sì, e ho lasciato... Non mi ha preso la presa per il culo. Sì, senza parola. No, proprio mi ha... Non riuscivo a staccare la presa dalla... Dall'appiglio. Quindi ho perso turni. Grazie. Ho perso molti turni. E... No, io ho perso turni. Ero un buon... Madonna, che brutto volo che hai fatto. Eh, hai visto? No, ma non lo prende quella, sto punto. Se perdi troppo tempo, così... Salta qui sotto direttamente. Perché hai perduto troppo tempo hai perso. Dai, Rex, vai avanti. Maledici il clero, cacchio. Maledici il clero. Mi piace tutto. Potere dei porco. Usciamo, usciamo. Non l'hai maledito abbastanza. No, esatto. Oh, no. No, non mi ha preso l'esci, ragazzi. Eh, esatto. Perché ti dà anche poco tempo per premere esci. Del tipo, sei stato lento, ecco perché sei stato espulso. Ma noi in realtà non siamo stati espulsi, Rex. Siamo ancora in partita. Ok, ce l'ho fatta. Sono uscito. Ok. No, ma noi siamo ancora in partita. No, sei fuori, a me, adatto. Sei fuori, fuori. Ma non è vero. A me non sono caduto. E non significa niente. Non siamo qualificati perché siamo un gruppo. Bene. Siamo di nuovo tutti pronti. Via a formare. No, ma aspetta, io voglio vedere se ci sono o non ci sono. No, ma non ci sei. Dovesti guardare. È un vero. Fussola per la prima volta. Vediamo se va. Io me lo do a sbloccare. Meno la testa la voglia. Uri, la sto a sbloccare la voglia. Dove a me. Facciamo, io proporrei, facciamo l'ultima e poi. Sì, sì. Sano che non ci sono. E poi andiamo a sparare. Sì, sì, assolutamente. L'abbiamo detto. Maledetto non ti fudi. Eh, no, perché lo vedete. Ma io l'ho superato, ma non giocavamo in solitario. Giocavamo in squadra. Sì, è vero. Dal tipo... Squadra. Sì, crollate tutti. Sì, brava. Squadrate. Puri avevo... Ero entrato prima di te, quindi... Tanto casino per 227 punti. Oddio. Quisquie. Quisquie. Eccomi. No, che te. Comunque... A puzzola, ecco. Guarda, a puzzola. È un po' edgy per essere una puzzola. È un po' edgy, sì, è vero. Però io ancora... Guarda che sto avendo difficoltà a sbloccarla, eh, porca miseria. Infatti io la voglio. Davvero? Sì, sì. Ah, io... Prima faccio precipitare con quel gonfiabile. Ah? Tu dovresti volare con quel gonfiabile e non precipitare. Purtroppo è un costume, non fa parte... Non esiste la fisica di quello, mi spia. Sì, è uno sgonfiabile. Esatto. È uno sgonfiabile, no, è... Aspetta. È una tartaruga. Sì, in realtà non c'è l'aria dentro. C'è il piombo. C'è il mattone. Ci sono i battoni. Se gli spari in War Thunder è un punto di non penetrazione. Anzi, no. Mercurio, Mercurio. Mercurio. Che comunque... No, c'è un'altra puzzola. Ti ha superato. No, no, devo... Devo batterla. C'è un canto e puzzola. Sì, solo una, solo una, solo una. No, 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 ci sono altri due e ce n'è una coi capelli. Oddio, oddio. Madonna. Oddio fagioli sparati ovunque. Guarda, c'è un alien. Madonna, quanto lo volevo. Ma io ce l'ho, infatti, però non lo uso. Catapollita. Catapollita. Ehi, Buzz Lightyear. Io ho la scheda di Buzz Lightyear. Non voglio anch'io Buzz Lightyear. Eh, lo devi comprare, 800 di quei cose. E vaffanculo, lo fai. Sì, è pure scontato. Ed è pure scontato. Sì, perché se no costa 1.200. Ah, ecco. No, se ne so le Rex, neppure io non potrò mai prenderlo. Ma quant'è che costa? 1.800 di questi cosi, dorati. Marco Baleno. Oh, porco. Mamma mia. No. Ma infatti non lo prendo perché mi voglio mantenere gli 800 e i 600 per la prossima pass. Madonna, fuoricampo. Ah, no. Non so come ho fatto a sopravvivere. Madonna, ciò lo fai. Io lo fai. Ho tenuto al bordo. Ah, no, no. No, no. Ma che... Io poi non devo... Non devo... Come è il mondo. No, ma quando... Mi ha visto volare tutte e due. Allora. Bella. No, non dovevo volare. No, vi ho volato. Ma hai detto a puzzola. Va bene, dai. Ma che... Ciò faccia poi. Va bene, via. Wordhound. Premete subito a Exco, se no qui... Proviamo l'ultima, dai. Proviamo l'ultima. Va bene, ok. Sì, dopo tutta la fatica che abbiamo... Anche veramente che risposta... Beh, effettivamente avevamo fatto... Prima abbiamo fatto delle belle parti sarebbe in finale. Perso alla fine, però eravamo... Quanto è il primo, viola? Sì, viola. Spera, spera che rimetto di mogol... Dove... Sì, ha portato... Ah, la cornacchia è sempre... La cornacchia è... No, bene, bene. È una... Vola di più, plana più facile. Allora, l'unica cosa che questa era... È di un anime o di una serie? Non mi ricordo di questo. No, è di un videogioco. È di un videogioco, ma non ho capito qual è. Sì. Aspetta, adesso non mi ricordo più come si chiama. Però è un... Visuale dall'alto isometrico, se non sbaglio. Ma è di qualche anno fa. No, 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 molto più... Molto più in l'africa. Stronghold. Bird simulator. No. Ok, quello simulator. No, è vero, è molto più di qualche anno fa. Angry Birds. Angry Birds. No, no, no. Che bei tempi. No, no, avevo una battuta, ma non la della cosa mai sbloccata. No, ma io senti la battuta, non mi interessa. No, ma siamo in live, stiamo registrando. Cosa stiamo facendo? È il live. Ognunque che puoi dire può essere della contro di te. O contro delta, penso. Ecco. Ah, quindi io sono in live, così non ho salutato tutti. E vabbè, ciao. Ciao. Ciao tutti. No, ragazzi. No, con i pezzi. Si è fatto le differenziali, dovete sapere queste cose che... Ma guarda che vengono gli uomini pezza contro. Gli uomini pezza. Ommini pezza di colore. Ho sbagliato, quindi salto da qua e poi fai così. Ti hanno fatto scassare malissimo. Sì, sì, ma hanno pigliato male. Non mi piace quei neri davanti con le cose bianche. Eh, maledizione. È tutto così? Non mi piace neri davanti. Cosa cazzo ho appena detto, sempre? Beh, è meglio davanti che dietro, comunque. Non mi piace dietro, questo è il porco, ma... Oddio! Sì, mi sono salvato. No! Sì, che è il motivo per cui toto non ho voluto andare al pronto e al preguardo mondiale. Senti, anche i tuoi magredine. Sì, 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 è storicamente appurato. Davvero? Storicamente appurato. Ma che cazzo? Ui, il martello c'è la salta. Salta! Ce l'ho provato. Il martello. Il martello. Quello c'è il buco, porca miseria. C'è il buco, c'è il buco. Affanchiappa. Guarda i rex che portiamo avanti l'onore. Ma c'è l'onore, mentre invece Delta porta avanti il disonore. Il romano. Ok, ok, ok. No, ma la palla lì doveva finire. Vai, Delta, vedi di dire l'area e facciano cercare l'area. Vai, 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 vai. Tutto di lato, tutto di lato, tutto di lato, tutto di lato. Alla al centro. Ma l'ha fatto ancora questo che ti prendi l'afferro, Cristo Panocchio. Ma scusate, ma quella gente che ti afferra all'ultimo... Non faceva apposta per farti perdere, per farti guardare. Secondo me c'è un girono all'inferno solo per l'uomo. Mi raccommodo adesso direbbe E nella parte più infame dell'inferno non c'è più Giuda. E compagnia Giuda e cosa brutto. No, però, ragazzi, vogliamo parlare del fatto che c'era un uccello con delle palle. Cosa? Scusami, era un uccello e c'erano delle palle. Mi sono perso dove? Mi sono perso. E' lucello chi è, secondo me. Io ancora questi uomini, ancora questi uomini di pezzo. Corri, Corri, Forrest. Dobbiamo far perdere quegli uomini di colore. Corri scappa, c'è il Nemesis. Guarda, guarda il Titanic si inclina. Conciuta, Panic. Poi seguite la massa. Panico e paragonale di Caprio. Mannaggia a DiCaprio. Mannaggia a DiCaprio. Mannaggia a DiCaprio con la voce di Anakin. Uno, di salone. E' vero. Madonna, che c***o. Ah, ho sentito. E' bruttissima la situa. No, 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 mi son salvato. Mi son salvato. Mi lancia, per Dio. Sì, ma se io contro la bilancia quel popolo segna. Dai, ma perché mi son beccato sta piattaforma? Guarda. No, ma veramente, siamo in due. Oddio, no? Ok. Si inclinerà mai. No, no, ragazzi. Andiamo, andiamo a Grimutini. Che c***o. Ci hanno fatto perdere. Ma guarda che ho perso 20 posizioni a causa di questo Titanic Viola. E' da Campergo. No, 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 no. No, mi ha rimani. Resisti. Ok, vai, con le parole, con le parole. No, no, no. Gli uomini neri, gli uomini neri lo hanno capito. Uomini nero, cos'è che andate a fare? Uppala. Dai. Dai, vai, segui. Salta. bella salta 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 no no guarda cacchio di patrick dai dai siamo gli aspetti perdere di schifoso spot ce la puoi fare salta subito salta subito salta subito no ci abbia fatto questa gioca non ci fa incazzare roba dei pipistrelli perché ci sono dei pipistrelli suini sono pipistrelli i pipistrelli un po' hanno il naso si hanno il naso su suino dove c'è scritto si allora allora però state sempre attenti ecco voi state qua tutte tre lasote io sto io sto voi cercate di non farvi più ammazzare cerco di stare qui ragazzi finirà malissimo morire no no io penso che state dall'altra parte rimanete lì cazzo si stai lontano dalla bomba sai cosa ecco io vado dove c'è bing scusa si andate state tutte e tre insieme basta che guardiamo buono è perché quasi è gris tali fermo che non volesse toccato no io l'abbraccio di gruppo ragazzi l'importante io importa che noi quattro stiamo per che ci muoviamo perché si sposta quel coso si sposta quel coso tanto il cazzo no no voi state fermi così tanto se muove continuamente io devo cercare solo di di non farvi lanciare le palle addosso che questi sono disgraziati ecco ancora queste palle ma soprattutto rimaniamoci prima non ha mai fatto che c'è il palco ma il giapponese maledetto prendere un colpo no no io lo conosco a memoria sto gioco devo solo stare un tanto che è caduto uno a posto ma guarda tutti questi suicidi sì ma donna cosa è rischiato nelle detti nipponici intervento un po di tutto e qui ecco bravo bravo mi blocchi la palla palla attenzione di un po di po dio per la palca quella palla esplode solo no cazzo di nuovo è il tuo mario no è la palla che pericoloso questo si esplode solo se la tocchi pericolosa grazie grazie pensavo la bomba che mi fanno la palla siamo tutti del tipo il proiettile che ti uccide a me fa a me fa ridere i bus che che fa finta di non esistere no no esatto tipo lì dietro tipo l'l3 nelle mappe con cui ragazzi in tutto ciò siamo alla prima posizione sei zitto silenzio ormai abbiamo vinto ragazzi guardate qua abbiamo vinto nel tenta io ti uccido no no e muoio e giuro che un muoio che abbia il motore del motoscafo e proprio guarda chi vuole bombardarti da tu sia facciato al mare della prima posizione in realtà non so cosa abbiamo fatto ma avete ascoltato avete ascoltato messaggio il saggio io posso bombardarti data così come ho bombardato il partner credo di averla mai vista in realtà questo e tu devi solo correre devi scappare dal ventilatore oh no hai capito allora se non accelera come ok la prima regola scema è quella è quella è quella veloce ragazze quella veloce ragazze quella l'ho notato l'ho notato d'alta che veloce no grazie di mappa veloce family voglio vedere la mia squadra però che è da e tipo tipo lancinotto ma lancio le obietà in realtà di polga mappa veloci family no perché no dico perché ho detto per fatto del veloce perché prima non andavamo veloci prima non andavamo a un lato delta meglio finisce prima no e muoio ho visto la tua vita passami davanti ma questo è stranissimo questa cosa l'italia un nero è partito un nero ma ho visto un nero volare guarda 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 che i rex è ancora lì a fianco al porco strello questo è bellissimo non mi fai distrarre non circonda è vero è vero c'è il tizio laica però di harry poter no no cazzarola sei tutti noi no 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 ma è data 6 sta andando malissimo quindi continua a sbagliare così mi piace come sbagli mamma mia che liscio no guardano e guardano e vince pure nel fallimento fantastico anzi 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 fallisce pure nella vittoria giusto meglio eh già mamma mia sento la tensione il porto strello maledetto in garata muloira tra i pipistrello e tu bro sei fantastico buon dio c'è una competizione gara col pipistrello che è qualcosa di poco ho fatto massacrare tempo zero perché mi sa che prima praticamente le mazzate la giustificazione della velocità io manco quella dai pronto mori perché non muore la tavoloira è la cosa più brutta ma no ma non morirà mai abbastanza su di sì che porco stella macellata stronti ora hai capito perché lo fa dura così tanto sto percorso perché può succedere che c'è già o si vai avanti il sito non ci fare cazzo ignorano 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 ignorando tutto delta cristo dai 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 cazzo per no è finta di niente per tre punti per tre punti tre punti magari io ci ho provato però però ottimo lavoro tutto rispetto dai dai davvero porco porco però dai andata molto bello del previsto e complimenti faccio meglio di dai perché su tasto s no alt f4 ok abbiamo fatto ok abbiamo fatto porco strello abbiamo dato abbiamo dato esatto posso dire che è stato qui 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 grius 28 passo si mori parte ma partenella live ma partenella 72 ma partire a un'altra live al contrario dice a tema morta nandere qui dal 38 passo e chiudo per la raga non ho detto già io